Bentornati, eccoci qua e bentornate chiaramente, eccoci qua per un nuovo video in preparazione all'AP Italian di quest'anno. Oggi lavoreremo sulla comprensione audio, quindi sull'ascolto dei testi. Ma prima di cominciare voglio fare degli shout out alla Arsley High School di New York e agli studenti della professoressa Michelle Chiara Genna, alla The Wheatley School di Old Westbury, New York e agli studenti della professoressa Susan Vasselman, alla Plainview Old Bathpage JFK High School e agli studenti della professoressa Teresa Clausi e alla Manuela Pan High School in New Jersey con la professoressa Katie Dominiani e soprattutto un grande shout out ai miei studenti della Beller High School in Texas. Allora, abbiamo detto che lavoreremo sulla comprensione audio, quindi vediamo un po' esattamente che cosa impareremo oggi. Allora, intanto abbiamo visto nel video di martedì che ci sono diverse tipologie testuali, quindi diversi tipi di testo per quanto riguarda la comprensione della lettura. Anche per la comprensione orale ci sono vari tipi di ascolto. Quindi potremo avere un'intervista, delle istruzioni e una presentazione. Le informazioni che verranno richieste sono molto simili a quelle della comprensione scritta. Quindi che domande potremo avere? Delle domande sull'idea principale, possibilmente un riassunto, sicuramente delle domande sui dettagli, quindi sulle informazioni che vengono date dalle persone che stanno parlando, domande sul vocabolario, su chi può essere interessato ad ascoltare questa intervista, queste istruzioni o la presentazione, e sul punto di vista. Quindi, attenzione, per quanto riguarda le istruzioni e la presentazione, avrete probabilmente solo una persona che parla. Chiaramente però nell'intervista avrete più persone, normalmente due, che rispondono a delle domande e poi una persona che fa le domande o che comunque intervista queste persone. Quindi, vediamo un po'. In questa lezione affronteremo il tema della bellezza e dell'estetica insieme ai sottotemi dell'architettura, della musica e della letteratura. Ricordatevi però di guardare tutti i video perché con il professor James abbiamo fatto in modo di affrontare tutti i sei temi dell'esame a P in ognuno, nei vari video, nella totalità dei video. L'ultimo video affronterà poi tutti i temi quando arriveremo al confronto culturale. Andiamo avanti adesso però e vediamo che cosa dobbiamo fare. Prima di tutto, come facciamo ogni lezione, cerchiamo di ricordarci un po' quello che conosciamo dell'argomento bellezza ed estetica. Quindi, cosa ricordi della musica in Italia? L'architettura è più importante in Italia o nel tuo paese? La letteratura fa parte della vita degli italiani? Allora, per questo avete bisogno di un po' di tempo. Quindi mettete in pausa il video adesso e scrivete tutto quello che riuscite a scrivere in cinque minuti. D'accordo? Solo cinque minuti e poi continuiamo insieme il nostro video. Adesso chiaramente è finito il tempo a vostra disposizione per scrivere. Dovevate mettere in pausa e adesso andiamo a vedere un esempio che invece è stato scritto da una studente nella mia classe. Rispondendo appunto a quelle domande. La musica italiana è più diversa? Probabilmente sarebbe stato meglio dire. La musica italiana è molto diversa. C'è del pop, trap, rap. Io ascolto artisti come Diodato perché la sua musica, attenzione come si scrive con una M sola, perché la sua musica è non più energetica ma molto energetica e positiva per cominciare una buona giornata. Secondo me l'architettura è più importante in Italia, in questo caso la parola più va bene ma ci vuole un accento, perché dimostra, o meglio mostra, dei periodi storici che l'Italia ha. Per esempio, con una S sola, le case vecchie sono viste, si vedono diciamo, in tutti i luoghi e negli Stati Uniti non è molto comune. Poi c'è una parola che non ho capito molto bene. Ricordatevi sempre quando scrivete per l'esame a P, cercate di scrivere con una scrittura molto chiara. Negli Stati Uniti l'architettura è moderna e cambia con il tempo. La letteratura è parte della vita degli italiani perché ci sono perché, intanto con l'accento, ci sono più autori italiani che hanno scritto dei libri classici. Un libro che ho letto di un autore italiano è L'Inferno, un libro scritto da Dante Alighieri che anche ha scritto la Divina Commedia. Ok, quindi con queste poche frasi scritte in cinque minuti, ma vedete quanto si può scrivere in cinque minuti, noi siamo capaci adesso di affrontare degli audio perché un pochino abbiamo cercato di ricordare quello che sapevamo su bellezza ed estetica, su questo tema. Quindi adesso possiamo andare avanti e fare pratica. Quindi intanto adesso ascolteremo un'intervista e vedremo prima di ascoltare l'intervista qual è il vocabolario che potrebbe crearci dei problemi. Ricordatevi sempre di leggere l'introduzione all'audio. Ok, in questo caso dice questo testo audio tratta di letteratura, è un'intervista a studenti universitari toscani della città di Firenze e adesso andiamo avanti. Quindi la narrativa è un genere letterario di testi in prosa, romanzi, novelle, racconti, quindi probabilmente parleranno della narrativa, così sapete già di che cosa si tratta. Parleranno anche dell'avventura, i romanzi di avventura sono dei testi in prosa, come i romanzi, le novelle, i racconti, però parlano di avventure, quindi magari di viaggi, di scoperti. Poi abbiamo la fantascienza, stiamo sempre parlando di un genere letterario di testi in prosa e però parla della fantascienza, quindi dello spazio, delle avventure un po' tipo Star Trek o guerre stellari. Andiamo avanti, abbiamo i grandi classici. Ok, come definizione vi ho lasciato la stessa, ma i grandi classici quali sono? Quelli scritti dai grandi scrittori che spesso vengono presentati a scuola. Tournée invece, e qui c'è stato un errore, ma tournée significa un viaggio per presentare una, per presentare uno spettacolo e in questo caso vedrete che lo spettacolo è legato anche alla letteratura. Ok, poi scusate qua c'è un, ve lo metto un attimo, ve lo tolgo un attimo, è perché qui voglio farvi la correzione, non voglio che voi lo vediate, può capitare che ci siano degli errori, ricordatevi gli errori vanno sempre corretti quando si può, quindi adesso lo facciamo sul momento, in maniera tale da non confondervi quando adesso prenderete gli appunti e ricominciamo, ok, adesso ricominciamo, quindi ricondivido il nostro schermo, scusatemi ma preferisco correggere, quindi abbiamo visto che abbiamo parlato della narrativa, dell'avventura, della fantascienza e dei grandi classici che sono tutti generi letterari di testi in prosa, la tournée invece è un viaggio come quello che fanno per esempio i musicisti quando vanno in tournée per fare dei concerti in una città oppure in un'altra e capita che queste tournée vengano fatte anche da altri generi di spettacolo come per esempio quello di cui si parlerà nell'audio. Rappato invece viene dalla parola rap che è un genere musicale che voi conoscete e quindi ricordatevi che nell'audio ascolterete questa parola riferita proprio al rap, quindi adesso se volete potete scrivervi queste parole, ricordatevi soprattutto che adesso dovete andare su bit.ly folder ap italiano oppure con il vostro telefono potete leggere il codice QR per andare a trovare le domande che verranno fatte ascoltando gli audio. Perché? Perché mentre ascoltate gli audio potete già rispondere alle domande e poi vedremo se le risposte sono corrette insieme. Quindi adesso mettete in pausa se volete scaricare il vostro file e poi andiamo avanti. Quindi questo testo audio tratta di letteratura, è un'intervista a studenti universitari nella città di Firenze. Ricordatevi di prendere appunti. Ognuno di questi audio verrà ripetuto due volte. Quindi anche noi lo ascolteremo due volte. Ricordatevi di cominciare già a rispondere alle domande. Scusate, posso farvi una domanda? Siete dei lettori, cioè vi piace leggere nel tempo libero? Sì, a me molto. Beh, magari se avessi più tempo. Già devo leggere tanto per l'università. E tu, fra i libri che leggi, scegli mai dei libri di poesie? Non spesso. Amo molto la narrativa, soprattutto libri di avventura o fantascienza. E grandi classici. Quelli non mi mancano mai. Magari proprio leggere un libro di poesie, no. Però ci capita di andare con gli amici dei Poetry Slam quando ne abbiamo la possibilità. Dei Poetry Slam? Ci spieghi cosa sono? Sono delle competizioni fra poeti, spesso giovani, che leggono le loro poesie a un pubblico che poi può votare la poesia che preferisce. Ce ne sono parecchi in giro. Fanno delle tournée e gareggiano in varie città. Sì, è un modo interessante di trasformare la letteratura in spettacolo. È quasi un concerto, una musica, se ti piace la poesia. Quindi è letteratura, ma senza le pagine di un libro. Certo. Forse è per questo che piace anche a lei. L'interpretazione del poeta aiuta molto la comunicazione del messaggio. E il ritmo della sua voce, anche quello aiuta. Interessante. Parole e ritmo che si trasformano in musica. Si può paragonare al rap. Credo che l'origine sia proprio una forma di poesia rappata. E probabilmente è per quello che mi piace. La letteratura mi stanca un po', ma sono una grande appassionata di rap. Ecco, qui siamo proprio in disaccordo. Io il rap non lo reggo. Ah, ecco. Allora buon divertimento. Al prossimo slam. Grazie di aver risposto alle domande. Ok. Allora, adesso la riascoltiamo, perché so che può essere difficile altrimenti rispondere alle domande. Quindi preparatevi e continuate a prendere appunti. Ricordatevi, per l'ascolto è molto importante che voi prendiate appunti. La prima volta scrivete tutte le parole che riuscite a capire. La seconda volta aggiungete tutte le parole che grazie al contesto delle parole che avete capito prima siete riusciti a indovinare. D'accordo? Vi consiglio anche di avere le domande sotto gli occhi davanti a voi per poterle leggere. In questo modo sarà più facile identificare la risposta corretta. Andiamo ad ascoltare di nuovo il nostro audio. Scusate, posso farvi una domanda? Siete dei lettori? Cioè, vi piace leggere nel tempo libero? Sì, a me molto. Beh, magari se avessi più tempo. Già devo leggere tanto per l'università. E tu, fra i libri che leggi, scegli mai dei libri di poesie? Non spesso. Amo molto la narrativa. Soprattutto libri di avventura o fantascienza. E grandi classici. Quelli non mi mancano mai. Magari proprio leggere un libro di poesie, no. Però ci capita di andare con gli amici dei Poetry Slam, quando ne abbiamo la possibilità. Dei Poetry Slam? Ci spieghi cosa sono? Sono delle competizioni fra poeti, spesso giovani, che leggono le loro poesie a un pubblico, che poi può votare la poesia che preferisce. Ce ne sono parecchi in giro. Fanno delle tournée e gareggiano in varie città. Sì, è un modo interessante di trasformare la letteratura in spettacolo. È quasi un concerto, una musica, se ti piace la poesia. Quindi è letteratura, ma senza le pagine di un libro. Certo! Forse è per questo che piace anche a lei. L'interpretazione del poeta aiuta molto la comunicazione del messaggio. È il ritmo della sua voce, anche quello aiuta. Interessante! Parole e ritmo che si trasformano in musica. Si può paragonare al rap. Credo che l'origine sia proprio una forma di poesia rappata. E probabilmente è per quello che mi piace. La letteratura mi stanca un po', ma sono una grande appassionata di rap. Ecco, qui siamo proprio in disaccordo. Io il rap non lo reggo. Ah, ecco. Allora buon divertimento. Al prossimo slam. Grazie di aver risposto alle domande. Ok, quindi adesso cosa dovete fare? Avendo ascoltato l'audio due volte, potete rispondere alle domande. Però ricordatevi che in qualsiasi momento voi vogliate mettere in pausa il video e tornare indietro, lo potete fare. Quindi, se non avete ascoltato bene questo testo audio, se non riuscite a trovare le risposte alle domande, tornate indietro, riascoltate e rispondete. E poi adesso, dopo che voi avrete dato le risposte, ve le darò io, vi darò le risposte corrette. Ok? Quindi, mettete in pausa, rispondete e adesso io continuo invece a darvi le risposte corrette. Allora, vediamo prima questa domanda. Quale di queste frasi esprime al meglio l'opinione dei due cittadini sulla lettura? A lui piacciono alcuni generi di letteratura, mentre a lei no. A lei piace leggere se ha tempo, mentre lui il tempo lo trova. Allora, a entrambi non interessa la letteratura, ma amano la musica. A entrambi piace la letteratura, ma solo quella italiana. Allora, quindi adesso dovete cercare di vedere un po' quello che avete capito dell'audio. Vi ripeto, se avete bisogno di riascoltarlo, potete tornare indietro e ascoltarlo ancora una volta. E io adesso vi darò la risposta corretta, che è a lei piace leggere se ha tempo, mentre lui il tempo lo trova. Infatti la studentessa, questa cittadina che stava parlando, ha detto proprio che lei deve studiare e quindi purtroppo non ha molto tempo, mentre lui dice che legge spesso. Andiamo a vedere la prossima domanda. Cos'è il Poetry Slam secondo l'intervistata? Una gara poetica contemporanea? Un concerto rap con letture di poesie? Un incontro di critici letterari? Una lezione di letteratura all'università? Tornate all'audio, se avete bisogno di riascoltarlo per trovare la risposta. E io adesso vi do la risposta corretta, che è una gara poetica contemporanea. Infatti nell'intervista si dice che i poeti, che spesso sono giovani, si ritrovano per una competizione, quindi una gara, una competizione poetica, che questa tra l'altro è una gara poetica contemporanea, ma in realtà in Italia le gare poetiche fanno proprio parte della cultura che è sempre stata in passato prevalentemente orale. Andiamo alla prossima domanda. Perché l'intervistatrice cita il rap parlando di letteratura? Perché l'intervistato è troppo critico con l'intervistata? Perché all'intervistata la letteratura non piace ma la musica sì? Perché deve fare un'intervista su bellezza ed estetica per la P? Perché la lettura delle poesie nei poetry slam è ritmata come nel rap? E la risposta corretta è proprio perché la lettura delle poesie nei poetry slam è ritmata come nel rap. Quindi c'è un certo collegamento fra la musica rap, che è un po' un testo ritmato, più che proprio avere un'armonia musicale e così viene fatto anche nella lettura delle poesie dei poetry slam. In questa domanda dice Guardatevi sempre se avete bisogno di più tempo per ascoltare, tornate indietro. Io però adesso vi do la risposta corretta che è Lui ama leggere e anche lei, lei dice solo che non ha il tempo di leggere perché deve studiare per l'università, ma in fondo le piace, ma la poesia in particolare preferiscono ascoltarla durante proprio i poetry slam. Vediamo un'altra domanda. Se potessi aggiungere una risposta dell'intervistata alla fine dell'intervista, cosa le faresti dire? E qui dobbiamo un po' interpretare quello che abbiamo sentito nell'audio per poi cercare di indovinare che cosa potrebbe dire l'intervistata, quindi la ragazza che rispondeva alle domande. Grazie, se vuoi ti invitiamo e andiamo insieme. Tutto qui, credevo volessi farci un'intervista. Vai già via? Ma come? Ci lasci soli? Non mi sono mai piaciute le interviste. Allora, la risposta corretta sarebbe Grazie, se vuoi ti invitiamo e andiamo insieme. Perché? Perché l'intervistatrice fa riferimento al prossimo poetry slam dove magari potrebbero incontrarsi e allora l'intervistata potrebbe dire ma sì, se vuoi puoi venire con noi. D'accordo? Adesso passiamo a un altro tipo di testo. Le istruzioni. Vediamo l'introduzione. Questo testo audio tratta di come si deve scegliere una chitarra. Ok? Quindi stiamo scegliendo uno strumento musicale e ci vengono dati dei consigli, quindi, delle istruzioni. Ma vediamo prima il vocabolario che potremmo trovare che potrebbe essere un po' complesso. Virtuoso. Una persona che eccelle in quello che fa. A volte, per esempio, si parla dei virtuosi della musica quando si parla dei grandi compositori. Acquisto. L'acquisto che cos'è? È una cosa che si compra. Devo fare degli acquisti? Vado in un negozio per comprare delle cose. Ritornello è la parte di una canzone che si ripete. Quindi in una canzone magari c'è una strofa che viene ripetuta spesso e che tutti conoscono e quello è il ritornello. Quelli che poi caratterizzano, per esempio, i tormentoni estivi che sono le canzoni che vengono ripetute molte volte durante l'estate perché sono dei grandi successi. Tenersi bassi è un'espressione che indica il cercare di non spendere troppi soldi. Quindi significa cercare di spendere poco. Puntare su, invece, è un'espressione che significa impegnare, impegnarsi a fondo su una cosa in particolare. Puntare su qualcosa. Per esempio, io quando studiavo all'università ho puntato molto sulle lingue perché mi piacevano molto le lingue straniere. Quindi tutta la mia istruzione, preparazione universitaria era puntata sulle lingue. accordare è quello che si fa, invece, con gli strumenti a corda quando si aggiustano un po' per dare il tono giusto, appunto, alle corde di uno strumento. Un rocchettaro, invece, è una parola che si riferisce a un musicista rock. Quindi adesso, se volete, prendete appunti su queste parole del vocabolario. Se volete, potete mettere in pausa il video. Se vi siete appena collegati su YouTube, potete andare a scaricare le domande che verranno fatte sulla base dell'audio che stiamo per ascoltare. Quindi mettete in pausa, scaricate i vostri materiali e io vado un po' avanti. Ascolta e prendi appunti. D'accordo? Queste sono istruzioni su come scegliere una chitarra. E mentre ascoltate, cercate anche di trovare le risposte alle domande. Se siete le prime armi e volete imparare a suonare uno strumento ma non sapete da dove cominciare, vi consiglio la chitarra. È uno strumento che vi accompagna tutta la vita e offre soddisfazioni quasi immediate, a meno che non vogliate diventare virtuosi della musica classica. Ma come possiamo scegliere la chitarra giusta? Prima di tutto è fondamentale stabilire quanto siete disposti a investire nell'acquisto dello strumento e anche quali sono i vostri obiettivi finali. Se quello che volete è imparare a suonare un ritornello famoso per cantare sulla spiaggia tra amici meglio tenersi bassi e spendere poco, ma bene. Una chitarra sui 200-300 Euro sarà sicuramente un buon investimento. Ma ricordate il detto, chi più spende meno spende. Se comprate una chitarra per meno soldi, probabilmente non potrete usarla per il vostro primo concerto rock. Non puntate nemmeno solo su prezzi alti come garanzia di qualità. Considerate che potreste scoprire di non volere continuare a suonare e vi ritrovereste ad aver affrontato una spesa eccessiva per l'illusione di un momento. Se avete un amico chitarrista, chiedetegli di accompagnarvi a scegliere una chitarra. Il suo orecchio sarà abituato a sentire i suoni giusti, che derivano da una chitarra di qualità. Sarà anche in grado di accordarla e quindi anche voi riuscirete facilmente a percepire la differenza. Vi sentite più classici o rocchettari? Da questo dipenderà la scelta di una chitarra acustica o elettrica. Cercate di immaginarvi mentre la suonate. Verso che musica sentite la vostra inclinazione? Anche se ancora non la sapete suonare, provate la chitarra nel negozio. Anche le dimensioni contano e dovete sceglierne una con cui vi sentiate comodi. Dovrete fare pratica per ore e sicuramente non volete farlo con una chitarra che vi costringe a posizioni assurde. La chitarra non verrà a casa con voi da sola. Ricordate di scegliere anche una custodia e un accordatore, che vi consentiranno di proteggere il vostro strumento e di accordarlo prima di suonare. Ma soprattutto non comprate la chitarra online. I criteri da seguire, come avete visto, sono tanti e richiedono di sentire la chitarra fra le vostre braccia per riuscire a scegliere quella più giusta per voi. In un negozio di strumenti musicali vi sapranno consigliare al meglio. In bocca al lupo per la vostra nuova passione. Bene, allora adesso dovreste avere le vostre domande di fronte a voi e andiamo a fare il secondo ascolto. Ricordatevi, gli audio si ascoltano due volte. Se siete le prime armi e volete imparare a suonare uno strumento, ma non sapete da dove cominciare, vi consiglio la chitarra. È uno strumento che vi accompagna tutta la vita e offre soddisfazioni quasi immediate, a meno che non vogliate diventare virtuosi della musica classica. Ma come possiamo scegliere la chitarra giusta? Prima di tutto è fondamentale stabilire quanto siete disposti a investire nell'acquisto dello strumento e anche quali sono i vostri obiettivi finali. Se quello che volete è imparare a suonare un ritornello famoso per cantare sulla spiaggia tra amici, meglio tenersi bassi e spendere poco, ma bene. Una chitarra sui 200-300 Euro sarà sicuramente un buon investimento. Ma ricordate il detto, chi più spende, meno spende. Se comprate una chitarra per meno soldi, probabilmente non potrete usarla per il vostro primo concerto rock. Non puntate nemmeno solo su prezzi alti come garanzia di qualità. Considerate che potreste scoprire di non volere continuare a suonare e vi ritrovereste ad aver affrontato una spesa eccessiva per l'illusione di un momento. Se avete un amico chitarrista, chiedetegli di accompagnarvi a scegliere una chitarra. Il suo orecchio sarà abituato a sentire i suoni giusti, che derivano da una chitarra di qualità. Sarà anche in grado di accordarla e quindi anche voi riuscirete facilmente a percepire la differenza. Vi sentite più classici o rocchettari? Da questo dipenderà la scelta di una chitarra acustica o elettrica. Cercate di immaginarvi mentre la suonate. Verso che musica sentite la vostra inclinazione? Anche se ancora non la sapete suonare, provate la chitarra nel negozio. Anche le dimensioni contano e dovete sceglierne una con cui vi sentiate comodi. Dovrete fare pratica per ore e sicuramente non volete farlo con una chitarra che vi costringe a posizioni assurde. La chitarra non verrà a casa con voi da sola. Ricordate di scegliere anche una custodia e un accordatore, che vi consentiranno di proteggere il vostro strumento e di accordarlo prima di suonare. Ma soprattutto non comprate la chitarra online. I criteri da seguire, come avete visto, sono tanti e richiedono di sentire la chitarra fra le vostre braccia per riuscire a scegliere quella più giusta per voi. In un negozio di strumenti musicali vi sapranno consigliare al meglio. In bocca al lupo per la vostra nuova passione. Bene, allora adesso se avete ancora bisogno di un po' di tempo per rispondere alle domande, prendete tutto il tempo di cui avete bisogno, mettete il video in pausa e poi io adesso invece vi guido verso la risposta corretta. Vediamo la prima domanda. Qual è l'opinione dell'autore su chi sta per cominciare a suonare la chitarra? Ha delle potenzialità e può diventare un grande chitarrista? Pensa di avere molto più talento di quello che invece ha? È all'inizio dell'apprendimento e non dovrebbe investire troppo? Investire significa spendere per lo strumento, no? È sulla strada giusta per imparare e deve spendere tutto per la chitarra. Vediamo qual è la risposta corretta, che è all'inizio dell'apprendimento e non dovrebbe investire troppo. Infatti nell'audio si dice se è la prima chitarra, se state appena cominciando, cercate di non spendere troppo. Vediamo la seconda domanda. Chi può essere interessato in particolare a queste istruzioni? Uno studente del conservatorio, un chitarrista principiante, un professore di musica, un insegnante del liceo. Quindi chi può essere interessato in particolare? Queste sono istruzioni per chi comincia a suonare la chitarra e quindi la risposta corretta è un chitarrista principiante, quindi un beginner all'inizio. Vediamo un'altra domanda. Il detto chi più spende meno spende viene usato nelle istruzioni per aiutare i negozi di musica a vendere prodotti costosi, convincere chi vuole imparare a suonare a spendere, ricordare che la tradizione preferisce la qualità al risparmio, invitare all'acquisto nei negozi locali della città. E la risposta corretta, ricordatevi che chi più spende, cosa vuol dire? Chi spende più soldi, dopo dice meno spende. Quindi vuol dire che chi investe di più in un prodotto di qualità, alla fine risparmia, perché magari il prodotto di qualità durerà di più. Quindi la risposta corretta è ricordare che la tradizione preferisce la qualità al risparmio. Se si spende poco, probabilmente si acquisterà qualcosa che vale poco. Quindi vediamo qui. Perché non si deve contare sui prezzi alti come garanzia di qualità? Si deve pensare che a volte le chitarre che costano pochissimo sono le migliori. Si deve fare attenzione a non venire derubati per uno strumento costoso. Si corre il rischio di smettere di suonare e di aver speso troppo per la chitarra. Si deve sempre puntare al risparmio quando si compra uno strumento. Se si è all'inizio, si deve spendere tanto? Probabilmente no. Ma perché? Perché anche se una chitarra più costosa può essere una chitarra di qualità superiore, se stiamo cominciando a suonare, magari poi non ci piace e smettiamo. E poi ci rimane una chitarra che è costata tantissimo. Quindi adesso abbiamo finito con le nostre istruzioni, andiamo avanti ad ascoltare un nuovo testo, la nostra presentazione. Vediamo l'introduzione che è questo testo, è la presentazione da parte di una guida turistica di un sito archeologico in Italia. Vediamo quindi il vocabolario che ci può essere utile per capire questo audio. Per esempio, civiltà, a cosa si riferisce la civiltà? Alla vita di un popolo, alla sua cultura, eccetera. Resti, i resti sono quello che rimane di una civiltà. Possono essere per esempio dei resti archeologici. L'età del bronzo è un periodo storico che in realtà si riferisce alla preistoria. Le piante sono invece delle basi delle costruzioni, cioè la pianta di un edificio è la base di quell'edificio. Medievale significa riferito al periodo del Medioevo, the Middle Ages. Nuragico, questa è una parola che troverete soltanto riferita alla Sardegna perché è riferito alla civiltà dei nuraghi che è una civiltà preistorica che esisteva in Sardegna. Quindi adesso, se volete, mettete in pausa per prendere degli appunti sul vocabolario. Se ancora non lo avete scaricato, andate a prendere le domande su questo audio. Quindi mettete in pausa, fate con comodo e io vado avanti invece alla presentazione, quindi a questo audio. Ricordatevi, mentre ascoltate di prendere appunti, ascolteremo l'audio due volte. Oggi vi accompagniamo alla scoperta di una delle civiltà più antiche del Mediterraneo, la civiltà nuragica. Ci troviamo nella valle dei nuraghi in Sardegna. Il nome è dovuto alla presenza dei resti di ben oltre 30 di queste maestose costruzioni in un territorio relativamente piccolo. Ma cosa sono i nuraghi? Torri e costruzioni che risalgono a un periodo di tempo che va dalla piena età del bronzo, circa 1800 a.C., al II secolo d.C. In particolare oggi scopriremo le meraviglie legate al nuraghe di Santuantine, sicuramente il più maestoso dell'età del bronzo in Sardegna. Gli abitanti del luogo lo chiamavano Sa Domo de Su Re, la casa del re, e lo dedicarono a San Constantino, in sardo Antine, imperatore romano e santo tra i più venerati della Sardegna cristiana. Il nuraghi mostra chiaramente il succedersi delle varie civiltà, delle costruzioni e capanne nuragiche che componevano il primo villaggio, possiamo vedere le piante a base circolare. Mentre nel periodo romano sono evidenti le forme rettangolari. Santuantine è stato studiato fin dal XIX secolo. Affascinava gli archeologi e gli storici con la sua imponente struttura che nelle ricostruzioni viene dipinta come un castello medievale, con una torre centrale e tre torri laterali. Dei materiali che servirono alla costruzione si sa che sono materiali del luogo, come anche per gli altri nuraghi, il che rende queste torri preistoriche particolarmente legate al territorio di cui fanno parte. La casa del re di San Constantino è stata costruita con una perfetta ventilazione e un accurato studio per l'ingresso della luce anche al centro della torre. E tutto questo è opera di un popolo di migliaia di anni fa. Un miracolo della tecnologia nuragica. Allora, se adesso volete, potete tornare indietro e riascoltarlo, d'accordo? E mettere in pausa per rispondere alle domande. Io adesso vado direttamente alle domande, ma voi rispondete prima e ricordatevi che potete ascoltare questo audio quanto volete. Vediamo la prima domanda. Perché il nuraghe di Santo Antine veniva chiamato Sadomo desu re, la casa del re? Perché era abitato da imperatori romani? Perché era costruito come un parazzo reale? Perché era grande, imponente e maestoso? Perché vi si organizzavano eventi reali? Ricordatevi di dare prima a voi la risposta e io vi indico la corretta, che è perché era grande, imponente e maestoso. Il nuraghe di Santo Antine prende il suo nome da San Costantino perché l'imperatore aveva imposto il suo nome al monumento, i sardi dell'epoca cristiana veneravano San Costantino, il popolo nuragico era poco religioso o credente, i romani dedicarono il nuraghe al loro imperatore. In realtà nell'audio si parla proprio del fatto che San Costantino, questo imperatore romano, veniva venerato dai sardi dell'epoca cristiana e quindi la risposta corretta è B. nella prossima domanda abbiamo che cosa mostra che varie civiltà abitarono il nuraghe, la forma delle torri, la ricostruzione del castello, i resti delle basi delle costruzioni, i reperti archeologici della valle dei nuraghi. La guida nell'audio ha parlato della differenza delle basi, della pianta delle costruzioni, quelle nuraghe che erano rotonde, quelle dell'epoca romana erano rettangolari, quindi la risposta corretta è C. Devi presentare alla classe il contenuto della presentazione, quale delle opzioni seguenti rappresenta meglio l'ordine delle varie parti? Storia, nome e civiltà del nuraghe, civiltà, storia e nome del nuraghe, archeologia, storia e futuro del nuraghe, nuraghi, geografia e tecnologia. Se avete osservato bene la presentazione, si parte proprio dalla storia del nuraghe, poi si continua a dire qual è il significato di Santo Antine e perché è stato dato questo nome e poi infine si parla della civiltà nuragica. Il nuraghe può essere considerato nato in quale periodo storico? Preistoria, medioevo, rinascimento, epoca romana? Qui bisognava capire bene a cosa si riferiva l'età del bronzo, bisognava capire un po' le date che erano avanti Cristo e quindi sappiamo che il nuraghe è nato nel periodo storico della preistoria. Allora, cosa abbiamo imparato oggi? Abbiamo visto che esistono tre diversi tipi di tipologie e di testi audio, abbiamo visto quali sono le informazioni che possono essere richieste nella scelta multipla. Io vi invito a leggere, ad ascoltare questi brani autentici perché sapete che in questi video abbiamo creato noi i materiali che vi presentiamo, quindi può essere interessante per voi andare a leggere e ad ascoltare invece dei testi autentici. Vi ricordo che su AP Daily l'intervista è nei video dell'unità 4 e dell'unità 5, così come le istruzioni, la presentazione invece è presente nelle unità 4 e 6. Vi ricordo che alla fine della visione di questi video è proprio importante che voi ci mandiate il vostro feedback con il modulo Google che trovate sul TinyURL oppure scansionando con il vostro telefono il QR code. Questa è l'ultima lezione di questa settimana. La settimana prossima, questo è sempre il QR code per il feedback, la settimana prossima avrete lunedì lezione con James per l'audio report and article e la conversation and chart. Lavorerete con me martedì su come costruire un saggio argomentativo. Lavorerete mercoledì con James per la conversazione e finirete tutti i video della settimana prossima con il confronto culturale insieme a me, ma anche James tornerà per salutarvi. Vi ringrazio di essere stati qui anche questa volta e vi saluto alla prossima settimana. Grazie a tutti.